Marchio C è regolarmente presente sulla confezione come il codice di quattro cifre relativo all'ente certificatore obbligatorio per questo dispositivo, tutto falsificato in realtà, come la documentazione attestante le caratteristiche di efficienza e traspirabilità. Sono 113.000 le mascherine FFP2 pediatriche sequestrate dai baschi verdi della Guardia di Finanza di Padova in un centro logistico gestito da cinesi in zona industriale. Il motivo è semplice, mascherine FFP2 pediatriche di fatto non esistono. Le mascherine FFP2 sono state certificate e testate dalla comunità europea per la protezione dei dispositivi, ovviamente per la protezione delle vie aeree, per i lavoratori, di conseguenza per una fascia di popolazione adulta. A livello petriatico, quindi per l'utilizzo da parte dei bambini, non sono state mai certificate né tantomeno approvate dalla comunità europea. Spagnolo è l'ente certificatore che corrisponde al codice riportato sui dispositivi. Sulle mascherine sequestrate pochi giorni fa, ovviamente, questo codice si faceva riferimento a un ente certificatore spagnolo. Questo ente certificatore ha certificato delle maschine FFP2, ma delle mascherine ovviamente per adulti, quindi completamente diverse da quelle che sono state commercializzate da questa ditta di origine cinese. Mascherine che dalla Cina non arrivano direttamente in Italia. Le maschine partivano quindi dalla Cina, venivano sdoganate in un altro paese della comunità europea, molto probabilmente per sfuggire ai controlli doganali italiani, e poi trasportate su gomma fino ovviamente al nostro Stato, fino ad Italia, nei quali venivano poi smerciate tutto il nostro territorio italiano.